No, non siamo noi. Sì, la famiglia Catacchio siamo noi, vabbè che c'è, ma sai quando Catacchi stanno? Stanno assai Catacchi nel circondario, si figura. E lo so, ma non siamo noi che abbiamo giocato l'attrice, abbia pazienza. Eh, magari, figurati una vincita l'attrice che quella ci voleva a noi con tutti i problemi che tenia. Mannaggia no, mi dispiace, la ringrazio, magari sarà per un'altra volta a giocare. Ecco, ora viene mia suocera, scusi, vieni, ma piano piano a scendere tu dove si spezzerà. Eh no, sta una a telefono, scusi, ma me, sta una a telefono, dice, voi avete vinto all'attrice, dice, abbiamo giocato l'attrice, Catacchi. No, 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 mai abbiamo giocato, vabbè. Ma che cos'è l'attrice? Che cos'è l'attrice? È un gioco che si gioca l'attrice, tris vuol dire tre, ma non lo so che cos'è l'attrice. Aspetta, l'altro giorno, altro bacchino, gioca l'attrice, l'attrice gioca. Scusi, un'informazione gratuita per piacere, volevo sapere? Scusi, interrombiamo le trasmissioni, vieni, vieni, vieni. Interrombiamo, ma che c'è, mamma, papà? Stiamo portando il telefono, senta, volevo sapere, il tabaccaio che gli ha dato questa informazione, che le ha detto, per caso che è venuta una signora anziana, una vecchia, sì, vecchia, 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 brutta, rizzosa, bro, vestita di nero, piegata in dù con un cappotto, con un panolengi marroche, non se lo leva mai da quarant'anni? Lei è? Mamma, tu sei? La socia, la si è giocata l'attrice. Iannina, io sono, vinto lei, l'attrice. Sì, quanto abbiamo vinto? Quanto abbiamo vinto? No, lo sa lui, non lo sai, Iannina. No, lo sa lui, non lo sai tu. 150 milioni. 150 milioni. 150 milioni. 150 milioni abbiamo vinto. 150 milioni. Grazie. Grazie, Iannina, grazie. E come ce li portate? E come ce li dai, la cittadina la volta? Mamma, papà, piacere? E se no, non sento qua, vi piace. È stata zitta. Allora, dobbiamo venire noi, dove? Dove venire pure tu. Non è nessuno. Non è nessuno lì, che si mette in mezzo, che si mette in mezzo. Appunto, solo io e te. Solo io e te, tutti e tutti due, andare, io e tu. No, io e la vecchia, ha detto. No, tu e quella, mi stai andare in giro. Mamma, per piacere, madonna, mi confediamo le idee. Sento, Iannina, fa favore che mi sto facendo la testa che non ti capisci niente. Vabbè, qua sta succedendo un po' di panico. Vuole capire un po' l'emozione. Comunque, dobbiamo venire a una trasmissione che si chiama TRIP. TRIP. Alla TRIP. No, TIP, TIP Sport. A che ora? Fra dieci minuti dobbiamo stare là. Penso, vabbè, mette a vestire. Dobbiamo vestirci in lungo, in lame, non nel cane. Vabbè, anche semplici. Vabbè, mi metto a minigone. Veniamo. Sì, il tempo di prepararsi ci stiamo da lì. Dov'è la sede della TV? Ah, qua dietro, quella sede, scassate. Vabbè, ora veniamo allora. Grazie di tutto e arrivederci. Salute a sua moglie. Grazie, 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 grazie. Buon essere. Mamma, mamma, io adesso ti devo baciare per la prima volta in vita mia. Ti devo baciare perché tu mi hai fatto vivi, c'era qua 150 milioni. 150 milioni. E noi adesso abbiamo caratteri. E quanti sono? 150. E non sono mille lì. No, sono 150 milioni. Questa cosa la devo dire Natella. Questa cosa la deve sapere perché così cambia tutta la nostra situazione della vita. Natella, ma che mio figlio, il bambino a me? Quando lo chiede? Dio, ha detto la mamma, ti do mille lì. Mamma, noi abbiamo 150 milioni, mo' mille lì, non ce ne facciamo più niente. Siamo ricchi, sfondati, miliardari. Beh, e zitta. Fammi chiamare al carcere circondariale. Dove sta Natale mio? Pronto? Buongiorno. Sono la signora Pascua Catacchia. L'amo di Natale. Lei è superiore? Senta, superiore, devi avere la compiacenza di farmi parlare assolutamente con mio marito Natale che gli devo dare una notizia bomba proprio. Sì, subito. Attendo con ansia, grazie. E se qualcuno si innamorerà di me, la mia chitarra suonerà per te. Ma se nessuno mi vorrà, zan zan, zan zan, zan zan, zan, la mia chitarra nel silenzio e suonerà. Amore sei più famiglia. Catacchio! 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 Che cosa? Vieni qua, vieni, vieni. Ci sono notizie, notizie fresche per te. Lo sai cos'è questa? Lo sai? Un telefono! E chi è? Per te, deve essere tua moglie, peggio, una cosa del genere. Non lo so, vieni tu, vieni tu. Pronto? Pronto? Natale? Uè, che? Tu sei? Tu sei? Tu sei? Tu sei? Tu sei? Sì, sono io, madonna! E di che vuoi dare? Dio! Come stai, Natale? E come devo stare? E tu come stai? E come devo stare, Natale? E come sei venuto con il vestito? Che c'è con il vestito? Sto a casa il vestito! Senti, Natale, è successo qualche cosa? Senti, Natale, ascoltami! Se ti ho telefonato è perché c'ho una notizia non bomba, 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 bomba! Sì, bombissima proprio! Un bombolone! Un bombolone, sì! Natale, ascoltami! Tu immagini, tua madre è andata alla tabaccheria l'altro giorno, è andata e ha giocato un'attrice. Ma ti hanno telefonato oggi? Piedi e dice che abbiamo vinto! Ti rendi conto, Natale? Eh? Lo sai quanto abbiamo vinto? Qua? Natale, stringiti forte, ammanigliati a qualche parte e ancora cadi, Natale. 150 milioni, Natale. Vatti, 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 vatti. Vatti a fare una cammina. Natale. Mi metti a fare queste scherze a me qua. Sto nello squallore. Natale, siamo ricchi, amore, siamo ricchi. Ma veramente? 150 milioni, Natale. Ma veramente? Sì, Natale, ma non solo. E allora a questo punto è una notizia bombolona. Appunto, Natale, non solo questo ho fatto. Immaginati che siamo stati invitati pure a una trasmissione televisiva di sport per festeggere, appunto, questa vincita. Ehi, non andare alla trasmissione che ti sfaccia di grande. Se hai la trasmissione ti sfaccia in due e ti sfaccia. Ma vabbè, non esagerare, dai. Come non esagerare, dai, io non voglio che ti vedo. Cioè, non mi vedo. Come io sto qua che mi sento diventare bella digerendo fuori. Che c'è da digerire? Ho già digerito. Ma che c'è da questo fatto? Tanto la gente mi vede. Io sto sempre qua con la porta aperta. Figurati se non mi vedono le persone. Ma non mi dobbiamo vedere in televisione. Ma con che domanda? Con mamma, con tua madre. Non ti preoccupare. Vabbè, vabbè. Allora, fammi sapere. Allora ti devo vedere la trasmissione. No, mi devi vedere proprio. Non fammi sapere. Fra dieci minuti inizia la trasmissione. Capito? Vabbè. Ehi, Natale. Oh. Dimmi, mi ami? Vabbè, amore, stanno questo. Non basta. No, mi devi dire ti amo. E te ne ho vergogno. No, devi gridare ti amo. Ti amo. No, più con passione, Natale. Ti amo. Grazie, amore. Ti amo. Amore, e fammi il rospo. E te ne ho vergogno. E allora, fammi il girino, il girino. Ma il girino. E fammi il padre, il rospo. Oh. Oh, quanto sei bello. Amore, sei bellissimo, amore. Senti, dammi un bacio. Non bocca, non bocca. No, no, mi devo dare un bacio. Allora, che voto la dove? Aspetta. Conto uno, due, tre e diamo il bacio. Uno, due e tre, bacio. Beh, è arrivato. Eh, a me sì, a te. E pure a me, in questo momento è arrivato. Grazie, amore. Beh, ciao. Ciao, guardami, ciao. Sì, ciao, ciao. Superior, superior. Sto qua, sto qua, sto qua. Superiore, concertista, dì, dì. Mi devi portare la televisione. La televisione. Devi portare la televisione nella cella. E stasera vediamo mia moglie in televisione. Sì, ma i soldi ce li hai? I soldi ce li hai? Ti dai i soldi? Non ci sta una lirra. No, non ci sta una lirra. Vabbè, te lo porto lo stesso in televisione. Sì, te lo porto. Ragazzi, una notizia bomba. Che succede? Una notizia bomba. Tadda a voi, ve lo posso dire. Tu ti devi fare l'ergato. Tu devi fare 45 anni. Abbiamo vinto 150 milioni. Abbiamo vinto, abbiamo vinto. No, 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 che abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Voi? Voi? Oh, oh, voci del verbo oh. Io ho. Oh, fino a voi. Io ho vinto, io ho. Tuo e io. Vabbè, vinto tu. Ho vinto 150 milioni. Ma mamma, ti muovi? Che qua fra 10 minuti inizia la trasmissione. Bang, bang, aspetta. Bang, bang. Allora, come prendi? No, come sei elegante, guarda un bocca. Stanno bene, questa è la giacchetta di quando andiamo al viaggino oggi. Gli occhiali, hai visto come ti stanno bene perché non te li volevi mettere? Stai benissimo, stai. Buonasera a casa. Eh, ma c'è la calorie, vero. Pasqua, senti una cosa, c'è una partita di profumi fuori. Sì, fuori. Ralentino, Enrico Poveri, Versetti. Sì. Vado a prendere. Che dici tu, li va a prendere? Così te li facciamo mettere un bocca addosso a te, almeno ti togli quella puzza che stai circondato sempre di questo formaggio, ma solito. Ma perché? Senti, non mi servono, ma la nostra vita è cambiata. Non ci servono più questi materiali. Andiamo vendo mille lì. Come? Mille lì? Sì, siamo venuti mille lì. Ma troppo, veramente? Dove è andato? Stiamo andando a una trasmissione TV. Veramente. Sì. E... E... Moinit, non la puoi vedere perché la televisione si è rotta da diversi tempi. Ah, non cercamelo a questo. E che fai? Muovere andare? Sì, ehi, puoi piacere, lo sciacallo, rimani tu qua perché noi non possiamo... La casa incustodita deve rimanere. E quanto tempo dovete stare? Ma che ne so, mezz'ora. Cercamelo a questo. Tre quarti d'ora, uno... Dice, facciamo due ore e mezza a tre? Non di più. Non di più, non di più. Ma tranquillo, la vedo io qua. Ehi, mi raccomando. Ehi, a te, a te, non venite qua. No, no, no. Non venite a vederne i cassettini. No, no. Non so, te lezchi, te gli soldi. No, 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 no. Oppure in quel cassetto che ho messo nelle cose nascoste. Che cosa vediamo? Non andrà. Oppure in quell'altro cassetto che ho nascosto nelle cose. Non è che vedevo lì dentro. Mi raccomando, hai detto tutto. Mi raccomando, fai sempre così. Tranquillo, tranquillo, a fiducia. Andate tranquillo. Mi raccomando. Ehi, lo sciacallo, sei stata a vendere qualche cosa, i prezzi li sei? Ehi, andiamo, mamma. Andiamo, all'era. Andiamo a vincere noi. E fatevi onore. Andiamo a vincere. Mi faccio a vincere, mi faccio 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 a vincere. Ti doi una mano. E che non viene, che non viene. Ok. Sì, ma... Mi raccomando, eh. Tranquillo, a fiducia. A fiducia. Che faccio più? Non andate a vedere in quel cassetto che l'ho messo... Le cose a mezzo. Sì, le cose a mezzo. Chiudi, chiudi, chiudi. Chiudi. Ciao, la sciacalla, ciao. Salutatemi alla televisione. Sì. Mi stai rubando la mano? Ma che cosa? Perfetto, perfetto. Adesso è una cartolina, non di nuovo, così come stai, non di nuovo. E io respiro. Non devi respirare! Come non devo respirare? E non devi respirare! Come non devi respirare? Ecco, ecco, ecco. No, stava a pubblicità adesso, eh. Non è uscita ancora niente. Ma è su questo canale? È su quel canale là. Non di... E quel si muove, un po'. Allora tu. Natta, ma questo è pesante, Natta. Ma ogni movimento che fai se ne va il quadro. E va bene, così si vede. Muove le orecchie, muove le orecchie. Non ti muove le orecchie, più giù, più giù, più giù, più giù. Alla, 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 sempre, perfetto. Perfetto. Alta la gamba, alta la gamba. Non quella a destra, quella sinistra. Eh, così. Ok, perfetto. Senta, ma come faccio a stare su una gamba? E se vuole così? La televisione vuole che sei con una gamba. Che ne cominciate? Non è cosa la pubblicità. Ma quando tu sta pubblicità qua? Eh, è buo, è buo. E pensa. A destra. Vai a destra che poi qui è perfetto. Tu hai il letto, non posso salire più. Sposti il letto, spingi il letto. A dritto l'andenne, l'andenne, l'andenne. L'andenne, l'andenne, l'andenne. Più a destra, più a destra. Più a destra, gli occhi. Ti ha attacco gli occhi. No attacco, hai combinato. E quelli diciamo, tocca l'andenne. è perfetto delle mani ragione una mano su una giù ok allora così deve rimanere per fesse cominciate non è costa la pubblicità a di un po e come già sta per cominciare vincita clamorosa dunque in puglia due scommettitrici hanno azzeccato un'attrice miliare E da un momento all'altro le avremo in un studio, le chiedo scusa, le sedie sono qui, buonasera, auguri, auguri, complimenti, le sedie sono qui, buonasera, le sedie sono qui, lei è molto gentile, si segue, queste sono le sedie, sono molto comodi, molto bene. Sì perché ci sono le rotelle, piano, 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 buonasera, allora intanto se permettete vorrei salutare Natale che è nella casa circondaliare e gli auguro una presta libertà, ciao Natale, amore, ti vengo a trovare domani, ma allora vitte scusi. Dunque rimandiamo i saluti, ci sono due formalità. prima di ottenere la vincita dovete in primo luogo mostrare ai nostri telespettatori la bolletta la bolletta la bolletta signora la scheda la scheda la bolletta della luce siccome l'ha giocato mia suocera non perdi stiamo tirando fuori la bolletta sì no allora momento solo che cerchiamo allora Ma che cosa mettere sta benedetta le mani addosso, per favore, e abbia bella carità, voglio arragnare proprio. No, non mi permetterei, ma potete farlo dopo, ecco signora scusi. E va bene, se dobbiamo vedere la bolletta come dopo. Se non c'è non ha importanza, si accomodi, grazie signora. Mamma, siediti, mamma. La seconda formalità, signora, la seconda formalità è un piccolo quizzo, è una cosa molto semplice. Mamma, che c'entra schiacciare? Che mi sa di manghè, che mi sa di manghè, che mi sa di schiacciare. Mia soggera è anziana, non capisce certe cose, maledetta, disgraziata, di enti a sedia. Ma fai meglio le scosse, ma fai meglio le scosse. Piano piano piano, però che scaspito di sedia, scusate, eh, potremmo mettere una sedia di pezza. Se avessimo saputo avremmo evitato tutto. Allora, andiamo avanti con il quiz. Ecco, c'è un noto cavallo italiano di cui tutto il mondo parla, tre possibilità di indovinare. Si chiama Rin Tin Tin. Rin Tin Tin. Tre possibilità, tre. No, no, scusi, Rin Tin Tin è solo un no. Una possibilità. Rin Tin Tin. Lessi o Varenna. Rin Tin Tin, Lessi o Varenna. Allora, questo dobbiamo scegliere un accasso, diciamo. Sceglia una delle tre, sì. Allora, Rin Tin Tin. E uno. Rin Tin Tin, Lessi. E due. Momento, un momento, scusi. E tre. Mi dispiace. Rin Tin Tin. Signori, il regolamento prevede che ai tre secondi lei perde la vincita. No, guardi, lei sta facendo veramente... E il regolamento del gioco. Scusi. Non posso far nulla. Allora, mi dispiace veramente se siete stati scottinati. Però, no... Scusate. Mi chiedo scusa se può ricomporre. Ma non è proprio la vecchia, signora. Mi rendo l'occhio. Sì, però, queste benedette mani, proprio, qui sotto la scella, mi tocca lì. Ma io mi guarderei. C'è un premio di consolazione che è molto simpatico. No, però non vale, non ho capito. Noi, ci date solo 30... Ma, signora, questo è dead, maledetto. Piano piano, piano, maledette sedie, veramente. E ci sono altre. Che cazzo, potevate spendere qualche cosa in più per le sedie e se aveva una qualità migliore. Sì, la prossima volta, se ce ne sarà mai un'altra. Allora. Allora, dunque, c'è un premio altrettanto simpatico. Una mia fotografia con dedica. Sì. Ma per cortesia, ma per favore, ma chi le ha mandate? Ma vieni qua, vieni qua, vieni qua, disgraziate. Ma chi le ha mandate? Ma buttateli fuori, chiudete, chiudete. Chiudilo direi. Ma vieni qua, vieni, che ti spacco gli occhiali, ti spacco, cretina. Ma ti vieni qua? Questa tozzella. Ma ti vieni qua, vieni qua, una schiappa. Andiamo, mamma, andiamo. Vieni qua, vieni, voglio stare qua. Sì, Natale, voglio stare qua. Sì, Natale, amore mio, ci vediamo domani. Sì, Natale, voglio stare qua.